Siamo in uno stato democratico. Il diritto di manifestare deve sempre essere garantito a tutti. Ma in questo momento difficile per il Covid-19 ci sono frange violente che cercano di infiltrarsi nelle piazze per strumentalizzare il legittimo dissenso delle categorie economiche più penalizzate dalla crisi. Per questo rivolgo un appello a tutti i cittadini che stanno manifestando, affinché prendano nettamente e pubblicamente le distanze da chi devasta le città e attacca con violenza le forze di polizia. Lo ha detto il ministro dell'interno Luciana Lamorgese in un'intervista al messaggero. È una situazione molto complessa, ha spiegato Lamorgese. Insieme alle normali e civili proteste di cittadini e lavoratori abbiamo assistito a inqualificabili episodi di violenza, aggressioni alle forze dell'ordine e a dati di vandalismo contro i beni pubblici e veri e propri saccheggi. Abbiamo riscontrato la partecipazione a questi incidenti di estremisti di destra e sinistra, anarchici, ultras, italiani e stranieri, spesso molto giovani, con precedenti di polizia per reati comuni, espressione di contesti di marginalità e ribellismo. In alcune occasioni, come è successo a Napoli, è stata accertata anche la presenza nelle piazze di gruppi violenti appartenenti alla criminalità organizzata.